La pandemia aumentano i casi ma Bologna e Recovery restano sotto controllo. Forlì tra le province più colpite ma pochi focolai nelle scuole. Nonostante la provincia di Forlì sia una delle più colpite dal Covid in questo periodo, nelle scuole si registrano pochi casi grazie anche alla tecnologia. Ci spiega Paolo Pini. La provincia di Forlì Cesena ha visto negli ultimi giorni salire la percentuale di positivi al Covid a causa di cluster importanti all'interno di residenze per anziani. Le scuole al contrario vedono una delle percentuali più basse a livello nazionale. L'ultima settimana di ottobre non abbiamo messo nessuna classe in quarantena. La prima di novembre abbiamo messo quattro classi ma questo solo perché era risultato una seconda positività dopo il controllo dei screening della classe dove era emersa una positività. Il merito è anche dei sanificatori che il comune di Forlì ha deciso di installare in tutte le classi di sua competenza 250.000 euro la spesa complessiva, oltre 10.000 gli alunni interessati, sanificatori che garantiscono condizioni di purezza e rigenerazione dell'aria. Noi abbiamo nove istituti comprensivi nella nostra città più le scuole di competenza comunali, nidi e scuole dell'infanzia. In tutte queste scuole abbiamo montato 840 sanificatori, ha dato uno strumento in più per combattere questo virus e credo che i risultati li possiamo leggere anche nei nostri dati. Il grande vantaggio è che le finestre possono rimanere più chiuse rispetto all'anno precedente, soprattutto nel periodo invernale e quindi le classi hanno meno freddo. Nello stesso tempo possiamo dire che i vaccini stanno funzionando perché abbiamo molti meno casi e quindi la situazione è sicuramente più gestibile. Si stiamo impegnando tutti per tenere la mascherina. Questi impianti ci rendono più tranquilli perché purificano l'aria e così durante l'inverno apriamo meno le finestre. Aspettiamo la primavera e poi vediamo come va. Esatto. Grazie per essere stati con noi, buona giornata e arrivederci.